Con Pierce Brosnan, il primo film sulla realtà virtuale ispirato al racconto omonimo di Stephen King, con la somministrazione di droghe e l'immersione periodica nella realtà virtuale, uno scienziato trasforma il mite Job, innocuo tagliaerbe, in un individuo di intelligenza superiore alla media, con poteri telepatici e telecinetici. In un furioso sballo mistico cercherà di controllare l'universo.